Giovedì 25 maggio presso il Teatro Orfeo di Taranto, concerto di primavera, un grande evento che vedrà protagonista con la speciale direzione del maestro Simone Genuini, l'orchestra giovanile della provincia di Taranto, della rete Ionio in Musica. Quest'anno abbiamo 93 unità, quindi 93 ragazzi, prevalentemente della terza media, che frequentano la terza classe, quindi comunque un'orchestra non stabile, un'orchestra che ogni anno si rinnova, ci sono anche delle eccellenze, delle classi seconde, c'è la collaborazione del liceo Archita che comunque fa parte della rete, la collaborazione anche del poesiello. 16 istituzioni scolastiche di Taranto e provincia unite dalla musica e da un progetto finalizzato a mettere in rilievo le giovani eccellenze del territorio. Quando le scuole della provincia si mettono insieme per un progetto così importante, che è un progetto che al di là di quello che poi questi ragazzi decideranno di fare da grandi, è un grande percorso formativo perché li forma a lavorare in orchestra, ti insegna tante cose importanti, ti insegna a lavorare in gruppo, ti insegna a non prevaricare gli altri, ti insegna la convivenza e ad aspettare anche agli altri quando hanno magari bisogno di più tempo.